10 giorni per presentare un progetto. È questo l'ultimatum dell'assessore Lucia Tanti al coordinamento di associazioni che operava all'interno della Casa delle Culture e che nei giorni scorsi aveva affidato ad un comunicato le proprie critiche alla chiusura. Assieme al sindaco abbiamo più volte chiesto alle associazioni un progetto da condividere che non è mai arrivato, ha commentato l'assessore Tanti. 10 giorni di tempo sono quelli che ci separano da capire se queste associazioni hanno interesse ad offrire progetti per la città o se invece sono spiazzati dall'aver perduto il monopolio di un settore che rivendico essere spettanza di chi ha ricevuto il mandato popolare. Sottolineo anche e continua tanti che alcuni volontari che frequentavano la Casa delle Culture hanno già stretto un rapporto di collaborazione con questa amministrazione per il dopo scuola. Rimane questo coordinamento che ha deciso di assumere un atteggiamento di contrasto. Fraternità dei Laici prosegue è il soggetto più opportuno per gestire lo sportello di informazioni e la Fraternità dei Laici è il soggetto più titolato a svolgere il servizio di mediazione linguistica e culturale, corsi di lingua e cultura italiana dopo scuola e corsi di formazione civica. Questa giunta rivendica il diritto di voler essere protagonista e voler mettere un controllo diretto sui risultati legati ai temi riconducibili all'inserimento sociale dei migranti in questa città. La coesione sociale, conclude Lucia Tanti, non si appalta, non si affida, non si regala, non si concede, non si vende, si gestisce in prima persona con tutti i soggetti lealmente disponibili a collaborare.